buongiorno e bentrovati nel video di oggi voglio parlare di un argomento che è venuto fuori diverse volte nell'arco di questi anni no è un argomento abbastanza sentito che è quello delle persone che hanno difficoltà a montare i propri cavalli ma non hanno nessuna difficoltà a montare i cavalli che non sono loro ok quelli della scuola o quelli di amici o quelli di altre persone e ne parliamo con una persona estremamente preparata per quanto riguarda la mente umana ma questo tra un'altra oggi siamo con una carissima amica che è la dottoressa molteni psicoterapeuta operatore per interventi assistiti medicina dello sport vero medico dello sport medico dello sport e anche studente parelli di lungo corso che adesso sta lavorando nel suo livello 3 ha due cavalli con cui ha due cavalli e anche due asini se non mi ricordo male un asino è il suo amico che abbiamo ospitato con cui appunto sta facendo appunto questo lavoro hai preso da poco la specializzazione per l'intervento assistito sono tutto il premio di tutto buongiorno a tutti ringrazio tantissimo a Sergio per un grande onore essere qui al suo fianco dopo tutti i video che ho visto essere qui nel suo video mi fa inserire molto strano molto onorata allora ho fatto tutto il percorso per diventare responsabile quindi è il referente di intervento coadiutore cavallo e anche coadiutore asino come ultima ultima formazione proprio perché lavorando ho lavorato tanto con Sergio con i miei due cavalli il primo particolarmente difficile inizialmente quindi grazie a lui è diventato un cavallo che adesso mi aiuta in questo lavoro quindi un cavallo molto competente partendo da un cavallo che qui sai benissimo che era quelli che mi conoscono dal tempo e mi seguono sicuramente si ricorderanno il cavallo che aveva il terrore della sella che si buttava in terra insomma quel cavallo là cavallo terrore da sella è diventato un cavallino grazie proprio all'aiuto di Sergio tutto il lavoro che abbiamo fatto con questo programma parelli che io sostengo tantissimo che credo che sia veramente molto valido adesso lavora con me in questi interventi assistiti di cui ho proprio iniziato la formazione sia come medico che come psicoterapeuta capendo il grande valore che poteva avere il lavoro col cavallo sia sulla psiche umana che anche a livello proprio di salute mentre come psicoterapeuta senza l'uso dell'asino e dei cavalli invece questa è una cosa che ormai fai da anni questa è la mia seconda specializzazione ho iniziato come medico dello sport poi vedendo con la medicina che ci si ammalava e non si capiva perché ci si ammalava la mia medicina offre la terapia offre la diagnosi ma sul perché è un po' poco quindi mi sono incuriosita e quando mi incuriosisco poi prendo un diploma una laurea e ho fatto tutta la specializzazione in psicoterapia che è il mio primo lavoro adesso fondamentalmente e quindi visto visto che insomma tu ne sai un bel po' un bel po' su come si funziona qua dentro su come funzionano i nostri 82 miliardi di neuroni che ogni tanto vanno in cortocircuito la domanda che ti rivolgo a te a questo punto è in base alla tua esperienza e in base anche insomma diciamo alle persone che conosci sicuramente conoscerai anche te persone che hanno avuto questa questa difficoltà qui quale potrebbe essere il motivo prima guardiamo il motivo e poi guardiamo anche l'aiuto che possiamo dargli no e quale potrebbe essere il motivo per cui mi è capitato tante persone che hanno questo di questa difficoltà qui magari persone che hanno avuto un trauma con il proprio cavallo non riescano a superare quel trauma con il proprio cavallo quindi hanno veramente grosse difficoltà a montare oppure se montano magari fanno solamente passo e trotto e non riescano a fare galoppo e invece con cavalli anche cavalli completamente sconosciuti eh di persone che dicano oh mio cavallo è bravissimo dai montaci e allora in quel caso lì ci fanno passo e trotto e galoppo senza nessun problema ok allora riguardo alle paure è sempre bene credo non generalizzare nel senso che vanno veramente calate da persona a persona perché si rischia spesso di generalizzare mentre credo che per quanto riguarda le problematiche psicologiche c'è sempre importante avere davanti la persona che ha quella paura però tu i motivi possono venire da da un background che ognuno ha il suo ecco insomma anche la paura del cavallo è un grosso raccoglitore cioè il cavallo rappresenta sì il tuo cavallo il cavallo che hai davanti ma anche già di per sé rappresenta dei grossi archetipi e quindi diciamo che è un animale molto potente da tanti punti di vista è full up seat quindi riguardo alla paura può diciamo può andare a pescare dei vissuti personali dei vissuti consapevoli o inconsapevoli quindi se so che ho avuto un trauma con il mio cavallo è un trauma consapevole ma può anche essere che ci sia un trauma inconsapevole qualcosa che abbiamo spostato sul cavallo ma che non riguarda il cavallo il primissimo caso diventato famoso di Freud era proprio riguardo a un bambino che aveva Hans il famoso piccolo Hans che aveva paura del cavallo dei denti del cavallo in particolare poi Freud l'aveva un po' tutta ricondotta a un aspetto riguardante la sessualità che aveva spostato qualcosa che riguardava il padre sul cavallo quindi c'era stato un trauma iniziale aveva visto un cavallo in bizzarria su un cavallo che trainava la carrozza che allora erano i mezzi di trasporto nelle strade aveva assistito a questa cosa ma poi Freud aveva visto che aveva spessato qualcosa che non riguardava il cavallo sul cavallo quindi anche nel calderone della paura del cavallo bisogna anche considerare la possibilità dell'espostamento di qualcosa che non riguarda il cavallo sul cavallo su quello che il cavallo può rappresentare in questo caso però tu mi dici che sono persone che hanno paura di qualcosa che hanno vissuto con il loro cavallo che non rivivono invece col cavallo di qualcun altro ho visto che ci sono due tipologie di persone ce ne sono alcune che hanno subito un trauma nel mentre che erano con il loro cavallo e diciamo nel mio cervello che ne sa forse un millesimo di queste cose rispetto a te mi torna più facile capirlo no? perché ho avuto un trauma con quel tipo di cavallo e su quel mio cavallo non ho ancora più tanta fiducia quello però che ho notato è che ci sono anche persone che comprano il puledro per esempio se lo fanno addestrare ma dopo hanno paura a montare il loro puledro che oramai è addestrato ma altri cavalli no anche se vedano che l'addestratore glielo monta che ci fa tutto però su quel cavallo lì hanno una certa ansia oppure magari riescano a fare solo alcune piccole cose e altri cavalli invece no altri cavalli no ti faccio qualche domanda in più però si è creata una relazione di solito con il loro cavallo quando ne hanno paura tipo questo puledro per esempio sì allora nei casi che mi sono capitate a me sì avevano una relazione che secondo me era anche un po' marcia nel senso non era sana era una relazione da madre a figlio quasi in cui c'era troppo love e tante volte purtroppo c'è questa famosa formula nel programma parelli no che dice che non devi avere troppo di qualcosa per cui deve avere linguaggio love e leadership in parti uguali e quando il linguaggio non è mai abbastanza quindi quello va sempre bene il problema è quando questo love questa leadership invadono l'uno lo spazio dell'altro no allora la leadership quando diventa troppo diventiamo boss diventiamo scomandoni diventiamo troppo entranti e quando la love invece invade la leadership escano fuori delle cose che tendono a farci vedere il cavallo è come se fosse una persona con il nostro figlio o un amico o un'amica cioè non abbiamo più la capacità di fare le cose giuste al momento giusto lo manizziamo voi esatto l'antropomorfismo è uno dei problemi più gravi ce ne sono cinque di problemi grossi che hanno l'essere umani quando si interfacciano con il cavallo uno di questi è l'antropomorfismo e secondo me in quei casi lì era nata una relazione che non era sana sana da un punto di vista del cavallo cioè nel senso sana dal punto di vista della persona esatto ti sei già dato secondo me una risposta importante per quello che secondo me è molto importante contestualizzare il tipo di paura perché quello che mi stai dicendo è già in sé la paura che può avere questa persona nel senso che nel momento in cui saliamo a cavallo ci affidiamo al cavallo ci affidiamo al cavallo ma se c'è troppa love è anche un po' implicitamente l'idea oddio cosa vi sto facendo è una prova per questa relazione quindi ho una bella relazione da terra ci vogliamo bene salgo in sella intanto non ho più il contatto visivo non ho più il modo di dimostrargli la mia maternità su di lui ma in qualche modo è come se lo dominassi quindi è possibile che nel salire in sella ci sia una messa a prova della relazione che evidenzia che c'è qualcosa che non va che può essere per esempio lo considero mio figlio io salgo sulle spalle del mio bambino mi trovo a disagio quindi è antropomorfizzare l'animale in questo momento della messa in sella diventa una prova un banco di prova perché sta dimostrando che c'è qualcosa che non va nella nostra relazione però in che contesto si inserisce l'andatura del galoppo perché è più veloce di conseguenza è qualcosa che ti destabilizza di più questo bisogna vedere ha paura di salire in sella ma ha più paura di andare al galoppo quei casi che mi sono capitati sì avevano la paura specifica qualcuno aveva paura proprio di montare che in effetti potrebbe essere come dici te mi sembra che si sposi perfettamente in alcuni casi avevano paura del galoppo quindi il galoppo non ha meno paura per altri cavalli esatto e questa c'è un'altra cosa secondo me che cambia molto da quando è il tuo cavallo a quando è il cavallo di qualcun altro nel senso è un po' intrinseca purtroppo nell'equitazione l'idea che sia un po' uno strumento un mezzo per fare sport quindi nel momento in cui è il mio cavallo mi rendo conto mi rendo conto diciamo è più una cosa inconsapevole di quanto questa cosa lo schia in piedi quindi nel momento in cui è il mio cavallo del galoppo ho paura perché non lo considero più lo strumento una moto sicura per cui posso andare a tutta velocità quindi è qualcosa di legato al fatto della mancanza di sicurezza su quel cavallo cioè questo cavallo è rotto quel cavallo funziona bene quei cavalli li posso considerare un pochino di più degli strumenti questo è il mio cavallo è un essere vivente non è qualcosa non è una macchina quindi come dire nel mio cavallo è più evidente il fatto della variabilità legata all'essere vivente rispetto allo strumento quindi su cavalli d'altri credo che posso scattare poi è molto variabile perché dipende perché questa è una cosa che ho visto accadere anche nel tradizionale cioè una persona cade da cavallo vendano il cavallo e ne compro un altro perché su quel cavallo non riesce più a montarci perché è diventato quell'essere vivente lì come dire non ho il trauma col cavallo ho il trauma con quello cioè come se si fosse tolto dalla categoria cavallo e fosse diventato eros è un essere vivente in tutto e per tutto quindi come dire si è complicata la situazione perché ho anche la proiezione legata al fatto che è un essere vivente come se praticamente si scoprisse da un momento all'altro che ha una sua opinione sì bravissimo ah ok nella sua opinione non ci sono io allora io sono un altro un altro cavallo che invece magari vedo più come uno strumento vedo più come è il cavallo questo invece parlo del mio per esempio questo è Quivi lo conosco perfettamente so che ha i suoi gusti le cose di cui ha paura le cose che gli piacciono è molto più complesso rispetto a un cavallo ok quindi qui si innesta bene il secondo principio dell'otto principi dell'osso in cui te dovresti non dare mai niente per scontato assolutamente quindi il tuo cavallo è come pensi ma potrebbe anche non esserlo perché in una situazione completa di tese ti potrebbe meravigliare da come bene si comporta come siamo noi come siamo la complessità dell'essere vivente è legato proprio anche alla sua impredibilità alla sua la sua mutevolezza al poter cambiare a seconda del momento a seconda dell'esperienza che ha vissuto quindi è qualcosa che rende più complesso ma complesso non vuol dire più complicato vuol dire proprio più ricco quindi la complessità di quell'essere vivente che veramente si toglie completamente dall'idea di strumento quindi là quando lo vedo come un essere vivente mi nasce tutta una serie di problematiche che magari sono invece un altro cavallo che lo vedo più come motorino uno strumento in quel caso lì c'è più di stacco emotivo che riesca a gestire la cosa credo che sia per la maggior parte questa è una spiegazione poi è chiaro che magari parlando con la persona che ha questa paura potrei fargli delle domande più specifiche per capire meglio questa è diciamo una possibile spiegazione coerente proprio nella complessità degli esseri viventi c'è che questa è una spiegazione ma come dici spesso tu dipende perché in questa complessità si potrebbe anche chiedere perché è possibile che abbia in realtà vissuto comunque un trauma in una interazione con il strappio cavallo per cui c'è la memoria di penso al circolo è partito al galoppo e ho pensato meno male che sono giù e non sono su perché guarda come ha sgluppato all'inizio se c'ero su cadevo questo pensiero può essere un pensiero che sia in qualche modo instaurato come del resto mi è capitato anche l'opposto io ho un paio di studenti che hanno avuto dei traumi mentre che portavano il loro cavallo mentre che ci lavoravano da terra e quindi da sela non hanno nessun tipo di problema mentre da terra hanno delle grosse difficoltà con quel cavallo lì specifico su un altro cavallo viene in mente una persona particolare che è come te nel senso che ha due cavalli su uno dei due cavalli ha avuto un problema da terra lo monta ci fa salto ostacoli bravissima è veramente super con l'altro cavallo ci fa tutto anche da terra ma con quel cavallo da terra non ci fa non riesce proprio a fare ha proprio una difficoltà dovuta alla sua emotività che sale va quasi in panico quando ti richiede di fare certe cose quando si vedono questi traumi qua ho visto molto bello l'intervento nel video caricato con Anna può anche subentrare poi proprio con un'intensità diversa però una sindrome da essere espostraumatica può essere che anche un trauma piccolo così possa essaurare per quel settore poi questo tipo di disturbo è una cosa su cui si può intervenire anche per esempio adesso c'è quello che si chiama EMDR che è un tipo di intervento che si fa sul trauma specifico e che è molto efficace non sono un operatore EMDR ma mi capita in questi casi quando c'è un trauma molto specifico e acuto diciamo qualcosa che riguarda proprio quell'esperienza di vita di mandarlo a degli operatori EMDR che con alcune sedute riescono in qualche modo a sciogliere il trauma che si è insistato ed isolato nella mente della persona è il tipo di intervento che fanno per esempio quando ci sono dei terremoti quindi un trauma collettivo su cui che faccio faccio un percorso di psicoterapia cioè questi hanno avuto un trauma grossissimo su larga scala vengono mandati dagli operatori EMDR e credo che in questo tipo di trauma spesso l'equitazione possa essere uno strumento molto valido quindi diciamo riassumendo un po' per dare una mano a queste persone che possano vivere in questo momento una situazione del genere quale potrebbe essere il tuo consiglio da professionista? allora io ti dico da professionista quello che farei mi capite grazie ovviamente non essendo abituata mi ho anche dato la bella malata l'ho rotto se fossi capitassi la professionista quello che farei la professionista psicoterapeuta non di video quello che farei è comunque prima di tutto un colloquio con un psicoterapeuta per capire cosa è successo cioè la tua paura specifica perché se no si rischia di generalizzare nella complessità dell'essere vivente generalizzare anche una paura si rischia di prendere fischi per fiaschi quindi una seduta per capire se c'è stato un trauma specifico allora si può risolvere magari se è un trauma fresco un trauma molto specifico si può già risolvere con alcune sedute di MDR per esempio o capire qual è qual è la paura che tipo di paura ti sei in muscare cioè molto specifica se riguarda la complessità dell'essere vivente e quindi aver capito che il tuo cavallo è un essere complesso e non è se è proprio completamente tolto da quell'idea generica di cavallo che magari avevi è lavorare sulla ricchezza che ti può dare questa complessità e metterla sempre più in sicurezza e credo che per metterla sempre più in sicurezza lavorare molto su questo programma per esempio se vuole però la mia domanda di oggi è venuta fuori perché all'interno diciamo del nostro percorso ci viene insegnato che una delle cose che è più comuni da fare in questi casi qui è che se ti hai un problema con il tuo cavallo nel galoppo per esempio oppure in un certo contesto no che ne so fuori in passeggiata o per fare certi tipi di attività possa essere quello di usare la tecnica del io monto il tuo cavallo mentre che te monto un altro cavallo ti faccio vedere che io ti faccio vedere sul tuo cavallo che certe combinazioni circostanze eccetera eccetera vengono gestite bene dal tuo cavallo che quindi che ne so il tuo cavallo non sviluppa il tuo cavallo non scappa il tuo cavallo non eccetera eccetera in modo che te prendi fiducia su quello che che può fare il tuo cavallo in un certo contesto no è come se fosse una rifrova allora dice ah ok va bene allora se è bravo allora è bravo anche quando ci monto io purtroppo però ci sono dei casi limiti dove non funziona questo perché il fatto per esempio che il tuo cavallo lo stia montando l'addestratore di turno l'istruttore di turno o comunque una persona che nella tua nella tua immaginazione ha un certo livello di competenza non smonta la tua paura perché poi te sai che quando ci sei te ci sei te da sola lì sopra capito non c'hai la persona che sta accanto che ti dice cosa cosa poter fare lo vedo come un metodo che funziona se è superficiale la paura che hai ecco esatto ho avuto un po' questo questa questa diciamo conferma ho visto ho visto che il mio cavallo potrebbe galoppare in modo da farmi cadere o se lui non mi senti sicuro che vedo che funziona bene è un po' come se ho sperimentato che tu che sembri tanto buono che un dono ti sei arrabbiato talmente tanto che mi sono sentita minacciata che potessi picchiarmi poi ti vedo con Simona con tutti gli altri che sei una brava persona che sei tranquillo però a me è rimasta la paura che in quel momento tu hai sbroccato come se i centermini non lo sentissi sì è qualcosa di questo tipo è difficile darti una risposta cioè non ci sono le ricettine che funzionano per tutti come con i cavalli è ancora peggio con le persone quindi tipo quello può funzionare però se è una cosa lieve e allora ho visto che il mio cavallo potrebbe lo vedo sempre che con altre persone è tranquillo partono dal canterino è sempre però a me è rimasta l'esperienza il ricordo l'averlo visto da terra ma anche l'averlo visto che quando parte con i suoi con gli altri cavalli che non ci va parte al galoppo pancia a terra sgroppa sa e Dio se ti salgo io mica farà sta roba e quella è una cosa quella fra l'altro è una domanda che mi fanno tutti allora rispondo una volta per tutte cioè i cavalli quando sono da soli si comportano in maniera molto diversa rispetto quando ci siamo noi sopra ma molto diversa in tutto e per tutto loro si connettono con noi a livello emotivo a livello veramente mentale e quindi quella roba che voi vedete che fanno e saltano e cosa non ne fanno neanche un derby a volte ci sono dei cavalli che li vedete la spesso e così fanno della roba io l'america se la vedete giocare da soli da sola dite io su un cavallo del genere non ci monterò mai neanche se mi mettono un milione di euro lì davanti e invece montata è una cavalla stupenda è come se facessero uno switch quindi non ci guardate quella roba hanno anche la cura di noi che ci siamo sopra ti accende un'altra parte di cervello poi le potenzialità atletiche sono un conto quello che fanno con noi è un'altra cosa soprattutto se abbiamo creato un rapporto è completamente un'altra storia che c'entra poi le potenzialità atletiche sono quelle di un cavallo magari un cavallo giovane una certa capacità è ovvio che se c'hai un cavallo che ti fa con te sopra un metro e quaranta da solo mi immagino che atleticamente ne possa fare di roba no? ok lo stesso vale per un cavallo d'arreno un cavallo accato un cavallo in salute un cavallo in salute che è atleticamente a posto può fare della roba che non ci fa rabbrividire sono dei gatti a tutti gli effetti però vedi quante variabili ci sono anche che si possono innescare una paura è proprio una cosa molto soggettiva anche proprio nel calderone della paura del cavallo cioè se hai avuto un trauma è abbastanza facile come ho fatto un incidente in macchina adesso ho paura a guidare ok abbiamo capito su dito qual è la possibile causa però è gamba perché in quel contesto lì hai paura di guidare non hai paura di guidare quella macchina no vedi che già però ti sta dicendo lì è proprio il massimo dello strumento certo perché è privo di cervello quindi non ha una sua opinione quindi ho paura di tutto quella macchina non è la mia macchina rimane sempre la macchina in generale quella macchina è la macchina per tutti e quindi è la mia macchina ho paura di guidare questo perché in centro con questo ho paura con tutto è uno strumento qui vedi che già mi fai riflettere proprio sul fatto a conferma del fatto che qua c'è la variabilità dell'essere vivente che si sta interagendo con me che rende la cosa diversa dal mio cavallo al mio cavallo quello è il cavallo strumento questo è tolto da quella categoria e quindi è tutto più complesso poi ci sono veramente tante altre variabili il galoppo per esempio ci sarebbe tutto un capitolo da fare proprio sul galoppo rispetto al pazzo trotto anche come risonanza sulla nostra psiche il galoppo è nella nostra cioè l'immagine del cavallo che galoppa in quante pubblicità è entrato nell'immaginario collettivo il cavallo che galoppa è sinonimo di libertà di istinto lasciato senza senza freni di razionalità che ha mollato le briglie all'istinto quindi cattura tutta una parte archetipica dentro di noi di galoppo su cui c'è tutto un altro capitolo da aprire che viene a vedere nella paura del galoppo quanto tutto questo si è tenestato beh da questa cosa qua non ci avevo mai pensato in effetti hai colpito nel seno galoppo ci sarebbe da fare proprio tutta una perché nell'immaginario collettivo il cavallo rampa galoppa il cavallo che rampa per esempio dalla Ferrari adesso quando da terra vedi il tuo cavallo che si impenna è un po' diverso però vedi nell'immaginario collettivo cosa va a pescare un cavallo che rampa quindi questo è un'asca su tutto quello che facciamo noi con il lavoro col cavallo bene ti ringrazio perché come al solito se sempre tirare fuori sai sempre muovere delle pedine che ti fanno pensare quindi ti ringrazio veramente tanto e ringrazio voi che ci avete ascoltato fino qui non dimenticatevi di cliccare sul pulsantino iscriviti al canale visto che potete insomma ce l'avete davanti l'occhio vi sto portando un sacco di materiale soprattutto negli ultimi due anni e io penso che veramente ce ne sono pochi di canali che mi portano roba così non per vantarci però veramente avete visto anche con la credit cioè sto cercando di portare anche professionisti di altri ambiti per dare il massimo dei contenuti se vi piacciono questi contenuti fatevelo sapere con un commento fatevelo sapere se anche voi avete avuto un'esperienza analoga a quelle di cui abbiamo fanlato in questo video e noi ce li diamo nel pastore come run with me fatevelo sapere e noi ce ne sono